Buongiorno bambini e bambine, ragazzi e ragazze, sono Pino Costalunga e sono qui con due consigli di lettura, due consigli di lettura speciali. Parlano di due mamme speciali. Perché? Ma perché oggi è la festa della mamma? E com'è meglio ricordarla se non procurandoci due storie speciali da leggere insieme? La cosa un po' strana è che questi due libri sono di due scrittrici, tutte e due svedesi e guarda caso tutte e due si chiamano Nilsson di cognome. Ma la prima è, eccola qui, è Moni Nilsson e il libro è Taziki Emma e l'altro libro invece è di Frida Nilsson e si chiama Mia mamma è un gorilla. E allora Taziki Emma è la storia di Taziki, un bambino che nasce da una passione d'amore, da una storia d'amore vissuta dalla mamma in una vacanza in Grecia. Taziki vive con questa mamma che non è molto brava a fare le torte, ma è bravissima a suonare il basso elettrico e il suo sogno è di fondare una rock band. Poi però Taziki ha molti amici, un amico che si chiama Per e soprattutto un'amica che si chiama Maria, il cui sorriso gli fa girare la testa. Ma diceva che Taziki era figlio dell'amore. Un figlio dell'amore è un bambino nato da una passione frizzante e inebriante. E quando ma raccontava di come aveva incontrato il suo papà pescatore di polipi e del loro grande amore, cosa che faceva spesso volentieri, Taziki pensava alle vitamine effervescenti, un intero tubetto di vitamina C all'arancia che sfrigolava al punto da uscire dal bicchiere. Per il resto non pensava troppo spesso al suo papà pescatore di polipi laggiù in Grecia. A volte i suoi amici gli chiedevano se non era strano avere un papà senza averlo mai incontrato, ma Taziki non lo pensava e dopo tutto si era abituato. E poi e poi aveva Ma, il nonno, la nonna, una bisnonna morta e gli amici di Ma e i suoi amici e anche Iram. Per Taziki, Taziki Johansson erano più che sufficienti. Moni Nilsson, Taziki Ema, Boen Press, editore. L'altro libro invece che si chiama Mia mamma è un gorilla allora, edito da Feltrinelli Kids di Frida Nilsson, è la storia di una bambina che si chiama Ionna. Ionna vive purtroppo in un orfanotrofio perché non ha i genitori e in questo orfanotrofio c'è Gerda che è la direttrice, che è veramente terribile nonostante l'orfanotrofio abbia un nome bellissimo e cioè Biancospino. Ogni automobile che arrivava all'orfanotrofio veniva presa d'assalto dai bambini. Tutti si spintonavano, davano gomitate per arrivare prima e farsi vedere nella speranza di potersene andare. E già quanto desideravano una vera casa, con una vera mamma, di quelle belle, con i capelli raccolti sulla nuca e una nuvola di profumo intorno a sé, una mamma che si preoccupasse per le ginocchia sbucciate, che dicesse povero tesoro mio. Ionna è la più bistrattata di tutti in questo orfanotrofio e quando arriva la nuova mamma, vedono arrivare da lontano la macchina, tutti i bambini corrono fuori, lentamente la porta si apre, spunta una gamba pelosa e quella che spunta è un gorilla. Ionna verrà adottata da una mamma gorilla. Subito si spaventerà, ma qui dentro leggerete la storia più pazza e l'avventura più piena d'amore e di gioia che mai abbiate letto. Allora, buona lettura bambini, voi e la vostra mamma e auguri a tutte le mamme. Ciao!